Per chi non ha vissuto l'olocausto, la giornata della memoria è un modo per non dimenticare l'orrore. Per chi ha vissuto la deportazione, dimenticare è impossibile. Lo scrittore di fama internazionale Uri Orlev ha raccontato la Shoah nei suoi libri per ragazzi e ieri mattina ha portato la preziosa testimonianza alla fondazione di Piacenza e Vigevano. Viveva nel ghetto di Varsavia quando i nazisti lo portarono al campo di sterminio di Berger Belsen. Lui riuscì ad uscirne vivo, la madre no. Non riesco e non voglio perdonare i nazisti, ha dichiarato lo scrittore ai nostri microfoni. Come tutti gli artisti io utilizzo la mia infanzia come sfondo a quello che scrivo e un terzo della mia infanzia si è svolta durante il periodo della seconda guerra mondiale. Io non posso parlare di queste cose da un punto di vista di un adulto perché è come se il mio cervello ha predestinato questa cosa e io non temo di non essere in grado di parlare da un punto di vista di un adulto.